le strade del mondo l'odino dio nelle sue creature padre santo e casi preghiamo vedi al Signore sui nostri cieli, si santificate il tuo nome con la guida della stella il cammino verso il tuo figlio dispera e felice e protegge i loro giorni entrino felicemente nel porto della santa intercessione di San Giovanni Battista nostro padrono insieme di non correre e una passeggiata se no subito finiremo come si trova? come si trova?